Quando morirò, vorrei che si dicesse che è morto il calciatore Kazumi Ura, non l'ex giocatore Insomma, non parlategli di ritiro. La leggenda del calcio giapponese, tanto leggenda che in pochi sanno che fu lui a ispirare il personaggio di Oliver Hutton, l'uoli di Oli e Benji, si racconta a 52 anni in una lunga intervista concessa all'equipe Oltre il record, l'attaccante giapponese, che nel 94-95 giocò anche in Serie A, indossando la maglia del Genoa, non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo È il corpo che decide, racconta il giocatore dello Yokohama FC, se sarò stanco al punto da non potermi allenare, sarà il momento Ma oggi non riesco a immaginare di dire addio a 50.000 persone dentro uno stale Inutile parlargli di carriere senior pur legate al mondo del pallone, non mi interessa diventare allenatore, presidente, direttore sportivo o commentatore tv, ribatte, il mio unico desiderio è essere un calciatore Fino alla morte se possibile